pensiero del giorno angeli per favore vi chiedo aiuto per ricordarmi di rivolgere preghiera e benedizione a tutti quelli che incontro oggi inviate energie di guarigione attraverso di me a tutte le mie relazioni chiedo che ogni mio incontro porti benefici alle persone coinvolte benedici tutti quelli che incontro la paura è la base dei problemi relazionali ed è causa delle preoccupazioni riguardo al potere dell'altra persona su di te e alla perdita della tua volontà ma questo come potrebbe accadere dopo che tu sei un'estensione del potere di dio nessuno può impadronirsi di quello che dio ti ha dato l'antidoto a questa paura è capovolgere la tua energia invece di preoccuparti di quello che qualcuno potrebbe portarti via focalizzati sul dare amore puoi farlo pregando per questa persona inviando energia positiva affermando la sua felicità o chiedendo che ulteriori angeli vengano messi al suo fianco oggi benedici tutti quelli che incontri che si tratti di uno sconosciuto o di qualcuno che conosci presta attenzione a qualunque cambiamento nella tua relazione anche se lo scopo delle benedizioni non è di cambiare l'altra persona godrai di un'energia di guarigione quando la lunghezza d'onda della condivisione e del dare eleva la vostra connessione